Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Nintendaro Incallito Oggi come saprete tutti quanti è sabato 27 giugno ed è ufficialmente la primissima insettomania in Animal Crossing New Horizons E sono veramente contentissimo di partecipare assieme a voi alla mia primissima e anche alla vostra suppongo primissima insettomania Quindi allora adesso naturalmente Fuffi ci annuncerà che è l'inizio dell'insettomania come potete vedere anche lei ci dice che è il 27 giugno E ci dice sto per darvi la notizia Fuffissima qui a New Horizons è in corso per la prima volta l'insettomania Terminerà alle 18 ma fino ad allora tutti vi possono partecipare basta iscriversi alla tenda in piazza Per oggi è tutto buon divertimento perfetto quindi dovete sapere che l'insettomania si tiene solamente 4 volte l'anno Ed è il quarto sabato dei mesi estivi quindi quarto sabato di giugno luglio agosto e settembre Quindi vi dovete armare di rettino durante questi mesi perché sarà l'unica volta che potrete fare l'insettomania durante l'anno Invece al contrario del torneo di pesca che si tiene una volta per stagione Quindi prima di tutto quindi adesso direi di cambiarci di abito perché il mio completo nuziale direi che non è il massimo per un torneo di pesca Mettiamoci il completo elegante dai questo qua direi che va abbastanza bene Quindi naturalmente l'unica cosa di cui avrete bisogno durante questo torneo durante questa insettomania Naturalmente è del vostro rettino naturalmente è meglio che fate un po' di scorta del rettino perché vi si romperà Però non vi si romperà durante il vostro turno quindi ecco qua subito una farfalla Quindi naturalmente la cosa essenziale è avere tanti fiori attorno quindi come potete vedere qua abbiamo appena incontrato due farfalle E funziona essenzialmente allo stesso modo del torneo di pesca Praticamente bisogna parlare con Flick che adesso non mi viene in mente il nome italiano però Ivano se non sbaglio esatto Quindi bisogna parlare con Ivano e iscriversi La prima partecipazione all'insettomania è gratuita però poi dalla seconda in poi si dovranno pagare 500 stelline per ogni turno E quindi come vi preannunciavo l'insettomania funziona esattamente allo stesso modo del torneo di pesca Nel senso che avremo 3 minuti pagando o il primo gratis o dalla seguente 500 stelline per catturare più insetti possibile con il nostro rettino Naturalmente questi insetti non occuperanno il nostro spazio dell'inventario perché verranno depositati direttamente in questa cesta qua Quindi non preoccupatevi se avete l'inventario abbastanza pieno come me di tutte queste ricette un po' doppie Perché comunque non verranno depositati nel vostro inventario ma direttamente in quella gabbia lì E poi praticamente finiti i 3 minuti dovremo tornare a parlare con Ivano e lui ci dirà quanti punti abbiamo ottenuto Quindi praticamente essenzialmente i punti funzionano in questo modo Si ottiene un punto per ogni insetto catturato e se si superano i 3 insetti si ottengono 2 punti bonus Quindi naturalmente da 1 a 2 insetti si ricevono solamente 2 punti Poi invece dal terzo in poi quindi facciamo che ne abbiamo catturati 8 riceveremo ben 10 punti E' veramente semplicissimo e naturalmente anche per quanto riguarda i trofei funziona allo stesso identico modo Con 100 punti riceveremo il trofeo di bronzo Con 200 punti riceveremo il trofeo d'argento E infine con 300 punti riceveremo il trofeo d'oro Che ci verranno consegnati direttamente nella nostra posta Che è un po' un peccato perché è una cosa che io adoravo delle vecchie insettomanie E dei vecchi tornei di pesca che c'era anche la premiazione Che era una cosa che mi piaceva da matti Purtroppo invece in questo capitolo non ci sarà E l'ultima cosa che vi devo dire poi naturalmente è come ricevere i premi Quindi naturalmente oltre ai 3 premi Che sono i 3 trofei che riceveremo se raggiungeremo i 300 punti Ogni 10 punti potremo riscattare un oggetto della serie della caccia all'insetto Ci sono 13 oggetti totali quindi naturalmente con i primi 130 punti riceveremo un oggetto per tipo E poi superati i 130 punti riscattati riceveremo un oggetto a caso dalla collezione Quindi poi andremo a vedere tutti gli oggetti che riceverò con tutti i punti che avrò accumulato Perché naturalmente io in questa insettomania voglio ricevere per forza il trofeo d'oro Quindi direi di non aspettare oltre e ributtarci subito in un torneo Prima però devo ovviamente prendere questo palloncino che naturalmente spunta sempre durante i miei tutorial Questo direi che è ormai una tradizione dei miei tutorial che spuntano i palloncini Però in ogni caso è molto semplice a porre rimedio Quindi parliamo subito con Ivano e lui ci dirà E ora dell'edizione dell'insettomania che si tiene in estate Sei emozionato? E chi non lo sarebbe? La senti vero quella magia nell'aria? Oggi il nostro mondo e quello degli insetti saranno un tutt'uno Le regole dell'insettomania sono semplici In ogni round devi catturare più insetti possibili in 3 minuti E io ti assegnerò i punti in base a quanti ne avrai presi Cerca di guadagnare un bel po' di punti così potrai ottenere i miei fantastici premi a tema insetti Tutti gli insetti che catturi vengono magicamente teletrasportati nella gabbia degli insetti Quindi insomma come vi ho spiegato io Poi si può partecipare quanto si vuole basta che si abbia un rettino Siamo pronti? Perfetto Chi partecipa la prima volta non paga l'iscrizione Quindi proviamo Fa fantastico, ottimo Lo troverai molto istruttivo e divertente Ok impostere il timer su 3 minuti Tu devi acchiappare gli insetti di qualsiasi tipo Ma prendine tanti Perfetto 3 punti bonus Dei punti bonus dopo che ne avremo catturati 3 Perfetto Quindi non ci dice con esattezza quanti Ma in ogni caso è abbastanza semplice Quindi la UU è andata dall'altro lato Peccato Quindi andiamo subito alla ricerca Io naturalmente adesso vi farò vedere solamente un solo turno Giusto per farvi vedere un po' come funziona Ma poi tutti gli altri turni li farò da solo Cercando di non annoiarvi Cavolo di qua di insetti non ne vedo proprio Mi pare che qua c'era qualcosa che saltellava Ma mi sa che mi sono sbagliato Naturalmente anche tutti i... come si chiamano? No, i maggiolini adesso non mi ricordo Che ci sono sui alberi valgono E a proposito ecco avrei dovuto tagliare un po' di alberi Per avere anche lo slot degli scarabèi Che purtroppo mi sono dimenticato Cavolo in 40... 50 secondi neanche un insetto Cavolo non è... non è il massimo Devo dire che mi sa che questo turno faremo un po' cilecca Uh, lì ce ne... mi pare di averne visto uno Giriamo per di qua Dai ma neanche un insetto Ma si può Oh, neanche uno Incredibile Oh, nemmeno uno Oh ragazzi mi sa che abbiamo scelto un turno sfortunato Perché diciamo che la... uh, ecco di qua Uno, perfetto La cosa un po' noiosa dell'insettomania È che non si può usare come nel torneo di pesca Le esche per poter acchiappare O almeno far... uh, far sponare i pesci Qua in questo caso non è possibile farlo Ovviamente perché non esiste Uh, dell'esca per le farfalle naturalmente Quindi proviamo a spostarci qua sopra Vediamo se qua sulla destra c'è qualche insetto Mi auguro di sì E poi io ho veramente tanti fiori Quindi mi sembra strano che non ci sia nemmeno un insetto Cioè scappano tutti quando si inizia l'insettomania Lì sopra non ne vedo Scusate amici se vi... uh, se vi spingo ma... È per una buona ragione Cioè, solamente farfalle comuni Quindi non guadagneremo neanche nulla Oltretutto mi sono dimenticato di spiegarvi Che tutti gli insetti che voi catturerete Naturalmente quelli che volete tenere Li potrete, uh, prendere dalla... Dalla gabbia degli insetti E se no li potrete vendere a Ivano Per il 50% in più del loro costo normale Cavolo, oh, nemmeno... Nemmeno una farfalla Dai, almeno tre punti Se no... Che sfortuna Cioè, ma non è possibile, ragazzi E ho pure tanti ibridi Quindi mi sembra strano che non ci siano farfalle E niente Oh, ragazzi Purtroppo questo primo turno finisce malissimo Con solamente due insetti catturati Però, naturalmente, adesso ne proveremo un altro E vediamo se avremo più fortuna Uh, ci è arrivata una notifica Dalle miglia di Nook E mi sa che abbiamo ricevuto un premio Per l'insettomania Perfetto Quindi abbiamo partecipato alla prima insettomania Ci dice Giovane adolescente Va bene E ci dice Qual è l'avvenimento estivo Che attendono tutti con trepidazione Ma l'insettomania, naturalmente Se partecipi alla Nookink Ti ricompenserà Con delle miglia di Nook Quindi unisciti al divertimento Perfetto Quindi a ogni insettomania che parteciperemo Eh, adesso l'ho persa, naturalmente Eh, ma in ogni caso A tutte le insettomanie che parteciperemo Una che, naturalmente, ce ne sono Quattro all'anno Riceveremo uno stampino per queste Naturalmente, come è successo con Il torneo di pesca Quindi andiamo a parlare con Ivano Purtroppo riceveremo solamente due punti, però Fa niente Ci riproviamo Eh, li troviamo nella gabbia degli insetti Che però a me non interessa prenderli Perché sono solamente farfalle comune Sono solamente due Quindi abbiamo ottenuto solo due punti Peccato Eh, quindi cosa facciamo adesso Dobbiamo, dobbiamo dirgli che Non, sono tutti suoi Che non vogliamo Tenere questi insetti E quindi ci paga Eh, 480 stelline Fin troppo Eh, va benissimo Quindi adesso riparliamo con lui E facciamo un'altra In setto mania Praticamente Quindi Tutti i turni Praticamente ve li pagate Solamente con gli insetti Che avete catturato Cioè, avete appena visto Io ho catturato Due farfalle comuni E mi sono ripagato Il turno Con 480 stelline Quindi veramente Basta pochissimo Quindi riproviamoci Ho appena visto Una farfalla Che volava qua dietro Eccola Non era questa Ma va bene Eccola lì Non ti spostare troppo Non ti spostare troppo E si è spostata Ovviamente Dai proviamo a catturarla Da di qua Eccola qua Oh Almeno siamo già arrivati A due farfalle Due insetti In 30 secondi Almeno quello Quindi Proviamo un po' A rifare il giro Speriamo di avere Più fortuna Eccole qua Un'altra Olè Perfetto E ce n'è un'altra Lì sulla destra Meno male No veramente La prima Il primo turno Non so perché Ho avuto così Tanta sfortuna Eccoci qua Già 4 No 5 Sì 4 farfalle Pensavo non l'avessi contata Invece l'ha già contata Eccone qua un'altra Oh Meno male ragazzi Perché sennò qua Non arriviamo mai A 300 punti Ottimo Quindi già così Siamo a 8 punti Catturiamone almeno Altre 2 Così riceviamo 10 punti E siamo A posto Mi sono dimenticato Di menzionarvi anche Che se giocate Con i vostri amici Io ve lo consiglio Moltissimo Perché Avrete un vantaggio Che i punti Si accumuleranno E quindi per voi Sarà estremamente Più semplice Ottenere tanti punti Per ottenere Tutti i premi E il trofeo Ottimo Quindi siamo A 10 punti Dai Siamo a metà del tempo Quindi adesso Andiamo avanti Catturiamo Altri insetti Se abbiamo di nuovo Fortuna come ora Speriamo Che la fortuna Ci continui a stare Al nostro fianco Eccone qua un'altra Fantastico Ma mi sembrava strano Che il primo turno Fosse andato così male Perché In ogni caso Nella mia isola Ci sono veramente Una marea di fiori E io ho sempre Tantissimi spawn Di farfalle Quindi Mi sembrava Veramente strano Che Non ci fossero Farfalle in giro Ma in ogni caso Adesso per fortuna Ci siamo rifatti Cerchiamo Abbiamo solamente Un altro minuto Cerchiamo qualche altra Farfalla qua in giro Mi sa che qua Non ce ne sono Proviamo ad andare a sud Vediamo un po' No Mi sa che qua Non ce ne sono No Infatti Peccato Dai dai Voglio raggiungere Le dieci farfalle Speriamo in bene Dai Torniamo nella piazza Che magari Abbiamo fortuna Come prima Ne troviamo altre Qua non ne vedo Al momento Mi pare di averne vista Una qua Ok Ottimo Dai Oh Li vedo un Un maggiolino Ah L'ho mancato Uffa No dai Dobbiamo riuscire A prenderne un'altra Di farfalla No Ce l'ho fatta Che fortuna Perfetto Quindi dieci Dieci punti Con dieci insetti Catturati Meno male ragazzi Ah Perfetto Quindi vediamo un po' Sarò felicissimo di comprare Questo qua lo sappiamo già Vediamo un po' I risultati Abbiamo catturato Dieci insetti Quindi 12 punti Ah no Ok Quindi ci da solamente Due punti extra Peccato Speravo in tre In ogni caso adesso andiamo a vendere di nuovo gli insetti E più tardi quando avrò raggiunto il trofeo d'oro Oppure i 130 punti Adesso vediamo un po' quanto ci metto Andremo a vedere tutti gli oggetti che possiamo ottenere da questo evento Seven hours later Ok ragazzi purtroppo ho sbagliato i miei conti E volevo fare l'ultimo turno con voi per raggiungere 300 punti Ma purtroppo avendo sbagliato i conti l'ho già fatto Quindi in ogni caso vabbè comunque Non è molto importante E Ivano quindi ci sta dicendo Questo significa che Oh il tuo punteggio totale dell'insetto mania Ammonta come minimo 300 punti Ti ringrazio a nome degli insetti per la tua devozione Ti invierò un premio per posta Ottimo lavoro E non preoccuparti E qualsiasi punto E qualsiasi punto che ottieni Verrà aggiunto automaticamente al tuo totale Si accomune abbastanza punti Vabbè questa qua è la sua frase Normale Perfetto quindi io ho già ottenuto No scusatemi Tre premi Quindi la camicia l'ho a insetti La targa da porta ragnatela E la ragnatela Quindi adesso se andiamo a riscattare un premio Basta aggiungere 30 punti Adesso gli diciamo che i miei insetti sono tutti suoi Quelli che ho appena catturato Ecco qua Quindi adesso andiamo a riscattare un premio Dobbiamo fare così Dobbiamo scegliere qualcos'altro E dopo di che Scegliere Usa i punti Eccolo qua E quindi ci dice Abbiamo fatto 276 punti Quindi aggiungendone 30 dei premi Che ho già riscattato Arriviamo a 306 punti Quindi Veramente niente male Quindi adesso Andiamo a riscattare Tutti e 13 I diversi premi E poi vi farò vedere Tutto quanto Eccoci qua Quindi ragazzi Con tutti quanti i premi Di questa insettomania Devo dire che sono veramente Tutti quanti Veramente fantastici Ma andiamo A dare un'occhiata Più da vicino A tutti quanti Questi premi Quindi iniziamo Dalla sinistra E procediamo verso destra Come potete vedere Qua abbiamo i due Insetti giocattolo Quindi uno E uno scarafaggio giocattolo E quello a sinistra E il centopiedi giocattolo O millepiedi Se non ricordo Dopodiché qua Abbiamo la camicia Aloha Insetti Che è veramente Stupenda Dopodiché qua Abbiamo il termitario Veramente molto interessante Ed è anche Bello grande Dopodiché qua Abbiamo la gabbia Per insetti Che purtroppo Non si può usare Per Metterci dentro I propri insetti Purtroppo Speravo che fosse Una Ficce di questo gioco Ma esattamente come Per il congelatore Per i pesci Per il torneo di pesca Funziona come un armadio Purtroppo Dopodiché qua Abbiamo L'ombrello Cocinella Che è veramente Simpaticissimo E la bacchetta In setto Che funziona come Qualsiasi altra Bacchetta All'interno del gioco Dopodiché abbiamo Il tappeto Cocinella Che è veramente Simpaticissimo E bello colorato E dopodiché qua Abbiamo La gabbietta Per gli insetti Che In ogni caso Purtroppo Non si può usare Per spandere Il proprio Inventario Per tenere Pinsetti E dopodiché qua Abbiamo lo zaino Con la farfalla Che è veramente Molto carino E infine Gli ultimi due premi Che abbiamo Sono la Ragnatela Che potete vedere Qua sulla destra Molto interessante La utilizzerò Sicuramente Per halloween E infine Qua a sinistra Abbiamo La targa Da porta Ragnatela Con scritto Welcome Che è veramente Molto carina E oltretutto Si può anche Personalizzare Quindi ve lo faccio Vedere immediatamente Così diamo Un'occhiata A tutti i diversi stili Che può Avere questa Targa da porta Ok Quindi sono questi qua I diversi stili Come potete vedere Quello che ho ricevuto io È nello stile verde Però abbiamo moltissimi Alti stili Abbiamo quello nero Il giallo Il verde Che abbiamo già visto Il rosa Viola Rosso Grigio E blu Quindi devo dire Che ce n'è veramente Per tutti i gusti E naturalmente L'hanno fatto anche In modo che Suppongo che poi Quando ci sarà Halloween Arriverà Fifonio Nella nostra isola Ci darà dei mobili Che comunque Suppongo che potranno Essere personalizzati Più o meno Con Questi stessi Schemi di colori E quindi Sarà veramente Fantastico Poter Customizzare La nostra Area Diciamo A tema Halloween Come preferiamo Quindi adesso L'ultimissima cosa Che ci rimane da fare È aspettare domani Che riceveremo Per posta Tutti e tre I trofei E quindi poi Gli daremo un'occhiata Ed eccoci qua Quindi ragazzi È il giorno dopo Domenica E quindi dovremmo Finalmente aver ricevuto I nostri trofei Come potete vedere Ho anche cambiato outfit Ho fatto questo nuovo outfit Tutto a tema Insettomania Che devo dire che è veramente Molto carino Ieri purtroppo Non me lo ero preparato E quindi eccoci qua Ci sono un bel po' di lettere Però prima di tutto Vediamo quelle di Ivano E ci dice All'amante di insetti Andrea Grazie per aver partecipato All'insettomania Hai ottenuto almeno 100 punti Quindi meriti Un premio È bello vedere Che esiste tanta gente Appassionata di insetti Ivano Organizzatore di insettomania Perfetto Quindi questo qua È il nostro trofeo Di bronzo Dopo che questa qua Ci dice All'entomologo Andrea Grazie per aver partecipato 200 punti Quindi meriti un premio Deve essere bello Per gli insetti Sapere che Sapere di essere amati Perfetto Quindi questo qua È il trofeo D'argento Ed infine L'ultima lettere Per il trofeo D'oro E qua ci dice Ad Andrea Caro entomologo Hai ottenuto Almeno 300 punti Quindi meriti un premio Il tuo amore Per chi ha Ben più di due zampe Zampette Ci ispira Perfetto Quindi eccoli qua Queste bellissime lettere Di Ivano Devo dire che Mi piacciono un sacco Quindi apriamo I premi Qua abbiamo Il trofeo D'oro Il trofeo D'argento E infine Il trofeo Di bronzo Quindi posizioniamoli Tutti e tre Uno Due Ed infine Tre Anzi no Il retino Lo tengo Ho sbagliato Ed eccoci qua Quindi Quindi con questo La mia guida Per quanto riguarda L'insettomania Di quest'anno Termina qui Spero che vi sia piaciuto Mi raccomando Se è così Lasciate un bel mi piace Lasciate giù In commenti Consigli Domani Opinioni Tutto quello che volete Mi raccomando Non dimenticatevi Di seguirmi Su Instagram E su Facebook Dove pubblico contenuti Continuamente E mi raccomando Iscrivetevi al mio canale Nintendore in Galito Per altri fantastici contenuti Ciao 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 ciao